numero 5 asciugatrice lg a carica frontale in classe energetica più 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 l'asciugatrice a libera installazione e ha una capacità di carico di 9 kg l'oblò è reversibile il sistema dual inverter it pump assicura ottime prestazioni nel rispetto dell'ambiente inoltre con l'asciugatura a basse temperature rimuove le pieghe e riduce il rischio di restringimento dei capi la tecnologia eco hybrid ti permette di adattare il tempo dell'asciugatura in base alle tue esigenze il programma allergica re elimina il 99 per cento degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori con la connettività wifi e l'app dedicata sarà possibile gestire da remoto il bucato ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 4 asciugatrice samsung crystal eco dry con una capacità di 8 kg e in classe energetica più più ottimo rapporto qualità prezzo dispone di filtro in rete a due strati per una manutenzione più semplice il sistema quick dry 35 minuti consente un'asciugatura rapida un carico da circa un chilogrammo sarà asciutto in soli 35 minuti la tecnologia optimal dry utilizza tre sensori che monitorano l'umidità e regolano il tempo di asciugatura per ottenere il massimo risultato la tecnologia a pompa di calore dell'asciugatrice offre un modo di asciugare i vestiti che risulta economico delicato ed efficiente dal punto di vista energetico trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 asciugatrice electrolux modello perfect care 900 ha una capacità di 9 kg e dispone di tecnologia cyclone care system per un'ottima cura dei tuoi capi con il sistema di asciugatura a spirale è possibile asciugare anche delicate camicette di seta caldi maglioni in lana e giubbotti imbottiti in tutta sicurezza questa asciugatrice tratta con delicatezza ogni tipo di tessuto e permette di asciugare i tuoi capi anche nei punti difficili il bucato viene asciugato uniformemente grazie all'app my electrolux care potrai controllare anche da remoto l'asciugatrice direttamente dal tuo smartphone acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 asciugatrice bosch home professional da 9 kg molto silenziosa in classe energetica più 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 per offrire un notevole risparmio dispone di cestello sensitive in grado di asciugare i capi mantenendoli morbidi e curati il programma allergi plus integrato è ottimale e specifico per chi soffre di allergie l'asciugatrice ha un sistema auto clean in grado di pulire automaticamente il condensatore e i filtri infine la funzione iron assist facilita la stiratura e rinfresca i capi anche quelli non lavabili in lavatrice se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 asciugatrice miele a pompa di calore con una capacità di 8 kg dispone di tecnologia eco dry e perfect dry in classe di efficienza energetica più più ti consentirà un notevole risparmio il sistema eco dry riduce i tempi di asciugatura mentre grazie al sistema di filtri non ci saranno impurità nello scambiatore di calore non soggetto a manutenzione ottima qualità l'asciugatura è regolabile il bucato risulterà sempre fresco grazie ai profumatori fragrance dos di miele puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione